Oggi vorrei fare insieme a voi qualche riflessione a cui ho dato titolo Il cane che ritorna al suo vomito e la scrofa lavata che ritorna a rotolarsi nel fango. Il versetto biblico sul quale faremo la nostra meditazione è quello di Seconda Pietro, capitolo 2, il versetto 22, che dice Questo versetto della scrittura viene spesso preso in considerazione da coloro che affermano che la salvezza si può perdere. Tutti i sostenitori della perdita della salvezza prima o poi hanno citato questo passo di Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 22, e hanno concluso dicendo che così come il cane ritorna al suo vomito e la scrofa lavata ritorna a rotolarsi nel fango, anche il credente può ritornare nel mondo e quindi perdere la salvezza. Questo è uno dei tanti versetti che viene estrappolato fuori dal proprio contesto, come con altri versetti che vengono presi fuori dal loro contesto, per dare valore a questa dottrina della perdita della salvezza. Ma proviamo a esaminare in modo più accurato questo versetto e proviamo ad esaminarlo nel suo contesto. In quale contesto è inserito questo verso? Nel capitolo 2 di Seconda Pietro e noi dobbiamo vedere che cosa dice la scrittura nel capitolo 2 di Seconda Pietro. Vi do sempre un consiglio, quando leggete un versetto esaminatelo nel suo contesto dove è inserito e poi esaminate il contesto che state esaminando alla luce della somma della parola di Dio. Quindi il singolo versetto va esaminato nel contesto in cui è inserito, poi quel contesto in cui è inserito il versetto che stiamo esaminando deve essere esaminato alla luce della somma della parola di Dio. Solo così potremo avere una spiegazione chiara da un passo biblico che stiamo leggendo. E quindi dicevamo che i sostenitori della perdita della salvezza, citando questo versetto, concludono dicendo che come il cane ritorna al suo vomito e la scrofa lavata ritorna a rotolarsi nel fango, anche il credente può ritornare nel mondo e perdere la salvezza. Vediamo innanzitutto di chi sta parlando qui l'Apostolo Pietro, di chi parla il capitolo 2 della seconda lettera di Pietro. Proviamo a leggere qualche versetto qua e là partendo dall'inizio di questo capitolo. E Pietro dice, però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso una rovina immediata. Come inizia questo capitolo l'Apostolo Pietro? Avvisando la Chiesa che si sarebbero introdotti all'interno della Chiesa dei falsi dottori, dei falsi profeti, dei falsi credenti e dice che così come tra il popolo ci furono falsi profeti, anche all'interno della Chiesa ci saranno dei falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Quindi si sta parlando di falsi dottori e qui Pietro sta dando un avvertimento alla Chiesa. Che cosa dice il versetto 3? Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false ma la loro condanna già da tempo e all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Qui sta parlando di persone che nella loro cupidigia sfrutteranno i credenti, quindi si parla di falsi credenti che mossi dalla loro cupidigia sfrutteranno i veri credenti. Andando avanti sempre nel capitolo 2 versetto 11, audaci, arroganti, versetto 10 scusate, audaci, arroganti non hanno orrore di dire male delle dignità, persone senza rispetto. Versetto 12, ma costoro come bestie prive di ragione, destinate per natura ad essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione. Parla di persone corrotte. Poi andando avanti dice essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Quindi parla di persone che provano, trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. E notate che cosa dice il versetto 14? Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di adulterio e non possono smettere di pecare. Questo versetto 14 ve lo dovete sottolineare. Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di pecare. Quindi ci troviamo di fronte a persone che sono schiave del peccato. Non possono smettere di pecare. Versetto 15, lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Dopo spiegheremo che cosa significa lasciare la strada dritta. Versetto 17, costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. All'oro è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Persone perdute. Andiamo ancora avanti, versetto 21, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. Di chi sta parlando qui, il cane che ritorna al suo vomito e la scrofa lavata che torna a rotolarsi nel fango, praticamente, chi è questo cane che ritorna al suo vomito? Chi è questa scrofa che ritorna a rotolarsi nel fango? Ce l'ha spiegato nel capitolo 2, Pietro. Sono persone che non hanno mai conosciuto il Signore, sono persone che si sono introdotte nella Chiesa, ma sono falsi credenti, non sono veri credenti. Lasciata la strada dritta, cosa significa? Cosa significa? Significa semplicemente che queste persone hanno avuto a che fare col Vangelo, hanno anche compreso qual era la strada dritta da seguire, avevano anche compreso, come dice il versetto 21, la via della giustizia qual era, ma dopo hanno voltato le spalle ad essa. Quindi non sono persone che sono state giustificate e santificate, ma sono persone che si sono accostate al Vangelo, frequentavano le Chiese, erano anche mischiati in mezzo ai veri credenti, ma non erano veri credenti. E a un certo punto che cosa fanno queste persone? Quando è il momento di fare una scelta per il Signore, ritornano indietro. Vi faccio l'esempio della via della salvezza, la porta stretta e la via della santificazione. La via della salvezza è una via sulla quale sono incamminati tutti coloro che si accostano al Vangelo, tutti coloro che sono simpatizzanti del Vangelo, sono tutte persone che sono sulla via della salvezza. Ma poi per accedere alla via della santificazione, chiamata anche via angusta, c'è da passare la porta stretta e la porta stretta è il Signore Gesù. Allora che cosa succede? Che molte di queste persone che sono sulla via della salvezza oltrepassano la porta stretta e accedono alla via della santificazione e vengono quindi giustificate e salvate. Molte persone invece quando arrivano sulla soglia della porta stretta ci ripensano, tornano indietro, c'è da pagare un prezzo, bisogna spogliarsi del proprio orgoglio, bisogna spogliarsi della propria vanità, bisogna spogliarsi delle proprie opere religiose, bisogna spogliarsi di se stessi per poter passare nella porta stretta perché è stretta e tutti questi bagagli ingombranti non renderebbero possibile il passaggio. Allora molti arrivano sulla soglia della porta della salvezza e tornano indietro, non oltrepassano la porta stretta che è Cristo, è Cristo la porta della salvezza e Lui la porta stretta. Molti arrivano lì e tornano indietro, quindi sono quelle persone che hanno conosciuto la via della giustizia, hanno conosciuto anche la via della verità, hanno conosciuto anche la strada dritta, ma a un certo punto cosa fanno? Tornano indietro. Ecco sono questi quelli che poi Pietro raffigura come il cane tornato al suo vomito e la scrofa lavata che ritorna a rotolarsi nel fango. Un'altra cosa importante che voglio farvi notare è nei primi versetti del capitolo 2. Notate bene, qui c'è una rivelazione bellissima. Dice, però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente le sie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso a una rovina immediata. Qui qualcuno leggendo questo versetto dice, vedi, queste sono persone che il Signore ha riscattato, quindi sono credenti. Ma scusate, ma come fanno a essere credenti se un attimo prima Pietro dice che sono dei falsi dottori? Non bisogna leggere i versetti frammentati a porzioni. Dice così, dice, ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente le sie di perdizione e rinnegheranno il Signore che li ha riscattati. Quindi qua, quando si legge la frase il Signore che li ha riscattati, non è che questi sono dei riscattati salvati, questi sono dei riscattati per i quali il Signore ha pagato il prezzo, perché il Signore Gesù è morto per tutti gli uomini, ha pagato il prezzo del riscatto per tutta l'umanità, ok? Ma non significa che tutti sono salvati, perché bisogna accettarlo questo dono che Dio fa. Quindi che cosa dice qua? Dice che sono dei falsi dottori che il Signore ha riscattato e questi falsi dottori rinnegheranno il Signore. Vorrei porre la vostra attenzione su questa parola, rinnegare il Signore. Quando parliamo di rinnegare il Signore, i sostenitori della perdita della salvezza cosa dicono? Che solo un vero credente può rinnegare il Signore, perché solo uno che lo ha conosciuto lo può rinnegare, un falso credente non lo può rinnegare. È vero? Concludono tutti dicendo questo, che solo un vero credente può rinnegare il Signore, un falso credente, proprio perché è falso, non può rinnegare ciò che non ha conosciuto. Questa è la conclusione che danno. Ma qui Pietro ci dice qualcosa di diverso. Pietro qui dice che questi falsi dottori che introdurranno occultamente l'esia di perdizione rinnegheranno il Signore. Quindi che cosa vediamo in questo versetto? Che il falso credente è colui che rinnega il Signore e lo può rinnegare pur non avendolo conosciuto personalmente. Basta capire qual è la via della salvezza, basta comprendere qual è la via dritta, qual è la via della giustizia e voltare le spalle ad esse per rinnegare il Signore. Quindi questo versetto ci dice che non è vero che è il credente genuino che rinnega il Signore e che falso credente non lo può rinnegare. Questo passo ci dice invece che il falso dottore che introdurrà occultamente resia di perdizione è colui che rinnegherà il Signore che lo ha riscattato. Il Signore è morto anche per il falso dottore, è morto per tutti gli uomini. E questo passo di seconda Pietro capitolo 2 versetto 1 deve essere armonizzato e letto anche con Deutronomio capitolo 32 i versetti 5 e 6. Notate che cosa dicono. Hanno agito perversamente contro di lui, non sono suoi figli questi corrotti, razza storta e perversa. Versetto 6. È questa la ricompensa che date al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti ha acquistato? Non è lui che ti ha fatto e stabilito? Ecco questo passo di Deutronomio ci fa comprendere che qui sta parlando di un riscatto, di un acquisto che il Signore ha fatto in Deutronomio. Parla del popolo di Israele e il Signore si è acquistato quel popolo, lo ha riscattato in qualche modo quando se lo ha acquistato. Quindi questo passo di seconda Pietro capitolo 2, versetto 1, ci dice due verità che in un caso parla degli ebrei che sono stati acquistati da Dio, quindi riscattati da Dio e si può anche interpretare alla luce dell'opera della croce. Il Signore Gesù è morto per pagare il prezzo di riscatto per tutti coloro che sono peccatori, quindi per tutti gli uomini il prezzo è stato pagato per tutti e questi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione sono le stesse persone che rinnegheranno il Signore. Quindi il falso credente può rinnegare il Signore e non è vero quello che dicono molti che un falso credente non può rinnegare il Signore. Torniamo al nostro capitolo 2 di seconda Pietro e vorrei porre la vostra attenzione su un passaggio. Dice che la scrofa lavata è tornata al suo vomito. Allora qui il versetto 22 di seconda Pietro quando dice la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Allora qui Pietro quando parla del cane sta citando un proverbio. Quindi è un proverbio che Pietro cita parlando del cane mentre la frase la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango è una citazione sua. Notate che cosa dice qua Pietro? Dice che la scrofa lavata è ritornata a rotolarsi nel fango. Non dice che la pecora lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Parla di una scrofa e la scrofa è un animale impuro. Era un animale impuro ed è tuttora un animale impuro per gli ebrei. Quindi sta parlando di un animale impuro Pietro. Non parla di un soggetto purificato che poi è ritornato a rotolarsi nel fango ma parla di un animale impuro che era rimasto impuro. Quindi qua non si parla di una pecora lavata che è tornata a rotolarsi nel fango ma si parla di una scrofa lavata che è tornata a rotolarsi nel fango. Cosa significa la scrofa lavata? Come sappiamo la parola di Dio è anche rappresentata con l'acqua o l'acqua comunque rappresenta anche la parola di Dio nella scrittura. Quando qualcuno viene a contatto con il Vangelo, con il messaggio del Vangelo, ecco questa persona viene a contatto con l'acqua in qualche modo. Quindi ascoltando il messaggio del Vangelo è come se ricevesse un lavacro. Un'altra interpretazione potrebbe essere quella di dire che queste persone avevano anche ricevuto un battesimo in acqua e quanti ce ne sono che ricevono anche un battesimo in acqua e poi dopo non vogliono più saperne del Signore. Quindi qui si parla di una scrofa lavata. Adesso voglio portare la vostra attenzione su un altro passo biblico di Prima Corinzi, capitolo 6, i versetti dal 9 all'11. Notate che cosa dice qua l'Apostolo Paolo. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Versetto 11, attenzione, E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. La scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango, è stata solo lavata, ha ascoltato il messaggio del Vangelo, probabilmente si è anche battezzata in acqua. Invece qui Paolo dice che i credenti di Corinto non solo erano stati lavati, dice ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Quindi si parla di un ascolto del messaggio del Vangelo, hanno ricevuto il messaggio del Vangelo i Corinti e questo ricevere il messaggio del Vangelo li ha santificati e giustificati. Quindi parliamo di una salvezza completa qui, c'è un lavacro, una santificazione e una giustificazione. Nel caso della scrofa non si parla di giustificazione e santificazione, ma si parla semplicemente di un lavacro, che potrebbe essere quello del battesimo in acqua o potrebbe, sicuramente non potrebbe, significare l'ascolto del Vangelo. Quando ascoltiamo il Vangelo noi veniamo a contatto con l'acqua che è la parola di Dio e quest'acqua lava, deve lavare, ma non solo deve lavare, deve anche poi essere ricevuta per poter essere santificati e giustificati. Quindi qua non si parla di persone né santificate né giustificate, ma solo lavate. E il lavare la scrofa significa semplicemente ascoltare il messaggio del Vangelo, venire a contatto con l'acqua. Ma poi questo è sufficiente a salvare? È sufficiente accostarsi al Vangelo per essere salvati? No, bisogna credere al messaggio del Vangelo. E allora quando questo messaggio del Vangelo viene ricevuto, la persona viene poi santificata e giustificata. E nello stesso momento in cui Dio santifica e giustifica, salva. La santificazione, la giustificazione e la salvezza avvengono tutti nello stesso momento. Un'altra cosa importante che voglio sottolinearvi in questo capitolo, al versetto 14, notate bene che cosa abbiamo letto prima, hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di pecare. Ma può essere un credente questo? Può un credente avere occhi pieni di adulterio ed essere schiavo del peccato? Può un credente, come dice, essere audaci, arroganti, non avere orrore di dire male delle dignità? Può un credente, come dice qui al versetto 12, essere come una bestia prive di ragione, destinata per natura a essere catturata e distrutta, di dire male di ciò che ignorano e perire nella propria corruzione? Bene, fratelli, sorelle, il cane che ritorna al suo vomito e la scrofa lavata che ritorna a rotolarsi nel fango sono i falsi credenti elencati qui in seconda al Pietro nel capitolo 2. Ma il versetto che voglio portare ancora una volta alla vostra attenzione è il 14, che dice hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di pecare, non possono smettere di pecare. Ricordate bene questa parola e poi venite con me in Prima Giovanni, capitolo 3, il versetto 6. Notate che cosa dice Chiunque rimane in lui non persiste nel pecare, chiunque persiste nel pecare non l'ha visto né conosciuto. Che cosa abbiamo letto qui in seconda Pietro? Andiamola a riprendere. Che cosa abbiamo letto in seconda Pietro? Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di pecare. Non possono smettere di pecare. Quindi queste persone di seconda Pietro, il cane e la scrofa, sono persone che persistono nel pecare. Non possono smettere di pecare, significa che sono schiavi del peccato, quindi che persistono nel pecare. E cosa dice Giovanni riguardo a coloro che persistono nel pecare? Dice Chiunque persiste nel pecare non l'ha visto né conosciuto. Chi persiste nel pecare non ha né visto né conosciuto il Signore Gesù. Chi non può smettere di pecare non ha mai visto né conosciuto il Signore Gesù. È chiara la parola di Dio. E che cosa dice Giovanni sempre nel capitolo 3, versetti 9 e 10? Notate che cosa dice Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui. E non può, notate dice, e non può persistere nel pecare perché è nato da Dio. Di là, in seconda Pietro, abbiamo delle persone che non possono smettere di pecare. Qua dice Giovanni che il vero credente non persiste nel pecare e dice che non può persistere nel pecare. Perché? Perché il seme di Dio dimora in lui perché è nato da Dio. In questi si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama il suo fratello. E chi è che può praticare la giustizia? Solo qualcuno che è stato dichiarato giusto da Dio, giustificato. Quindi, vedete, questi tre apostoli, Pietro, Paolo e Giovanni, ci danno un messaggio completo. Pietro parla del cane che ritorna al suo vomito citando un proverbio. E poi, da una sua citazione, dice, la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. E Pietro fa questa affermazione. Poi Paolo che cosa fa? Paolo risponde dall'altra parte e dice, attenzione, non è sufficiente essere solo lavati. Bisogna essere santificati e giustificati per essere salvati. Pietro ci dice che queste persone non possono smettere di pecare. Giovanni, dall'altra parte, risponde e dice, attenzione, se non possono smettere di pecare, non hanno mai visto né conosciuto il Signore. Perché chi è nato da Dio non può rimanere schiavo del peccato. E vedete, questi tre fratelli ci danno un messaggio completo. E questo è quello che vi dicevo prima. Mai prendere un versetto fuori dal suo contesto e farne una dottrina. Il versetto va esaminato nel suo contesto, come abbiamo fatto noi nel capitolo 2, e poi il capitolo 2 di Pietro, cioè il contesto, va esaminato alla luce della somma della parola di Dio. E allora abbiamo più chiarezza, comprendiamo che cosa voleva dire Pietro con quelle parole. Chi è il cane che ritorna al suo vomito? Un falso credente. Chi è la scrofa lavata che ritorna a rotolarsi nel fango? Un falso credente. Ma un figlio di Dio, che ha assaporato le delizie della tavola del Signore, può ritornare a mangiare il proprio vomito? Il vero credente quando cade nel peccato e si sporca, prova disagio, non vede l'ora di ritornare al Signore e dire Signore, sono caduto, mi sono fatto una macchia, purificami. E il Signore lo purifica, perché è fedele e giusto. Non torna a rotolarsi nel fango. Che cosa rappresenta il fango? Il peccato, le sozzurre del mondo. Quindi qualcuno che torna a rotolarsi nel fango è qualcuno che persiste nel pecare. E se persiste nel pecare, dice la scrittura, che non ha mai conosciuto né visto il Signore. Bene, fratelli, sorelle, spero di aver spiegato bene questo versetto 22 di Seconda Pietro, capitolo 2. Spero di averlo fatto in modo chiaro. E quando in futuro vi citeranno il cane che ritorna al suo vomito e la scrofa lavata che torna a rotolarsi nel fango, fategli leggere il capitolo 2 di Seconda Pietro, fategli leggere Prima Corinzi 6, 9 a 11, fategli leggere Prima Giovanni 3, 6 e Prima Giovanni 3, 9 e 10. Quindi, mettendo insieme tutti questi versetti, abbiamo un messaggio chiaro. Il cane che ritorna al suo vomito e la scrofa lavata che torna a rotolarsi nel fango sono dei falsi credenti. Non sono dei veri credenti che perdono la salvezza. L'odiamo il Signore per la sua parola e grazie a tutti voi per la vostra attenzione e per la pazienza che avete avuto ascoltando questo messaggio fino alla fine. Un abbraccio a tutti.